Con 23 voti favorevoli e 3 contrari, il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato l'assestamento di bilancio. Hanno votato contro la manovra i consiglieri di sinistra in movimento Pietro Rinaldi e Vittorio Vasquez e il consigliere del gruppo Red Gennaro Esposito. Il risultato di oggi, ha affermato in aula il sindaco De Magistris, è un ulteriore tassello all'azione di risanamento dell'ente che abbiamo messo in atto. Dovevamo necessariamente verificare se gli equilibri di bilancio con questo nuovo sistema, modello rigido, più rigido di calcolo dell'equilibrio, mantenesse. Non solo ha mantenuto, ma ci ha dato la possibilità di accertare nuove entrate, quindi adeguare il fabbisogno finanziario di determinati servizi in tempo utile per poterli in qualche modo espletare sia per quanto riguarda l'annualità 2015 che per quanto riguarda l'annualità 2016 e 2017. Quindi abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano che con questa programmazione in corso di assestamento ci apprestiamo ad arrivare a un rendiconto 2015, il terzo nell'era del piano di risanamento, che ci apre la strada ad una revoca, alla richiesta di un'uscita definitiva dal piano di riequilibrio. Perché il rendiconto 2014 ci ha consegnato una riduzione del disavanzo di circa 600 milioni, arrivando ad attestarci a 205 milioni di disavanzo. E credo che con questi numeri, con questo assestato e con il rendiconto che andremo ad approvare, spero, entro febbraio ma comunque non più tardi di inizi di marzo, avremo la possibilità di uscire definitivamente dal piano di risanamento, con tutti gli obblighi, vincoli sia per l'amministrazione ma soprattutto per la cittadinanza. Non abbiamo più questo obbligo di elevare al massimo le tariffe, le aliquote, quindi possiamo immaginarci un rilancio sia di servizi nuovi, strategici, che prevedono la programmazione di più ampio respiro e senza investimenti non si può rilanciare una città, sia in termini proprio di servizi immediati, quelli che il cittadino tocca con mano ogni giorno. In precedenza l'Aula ha approvato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per circa 48 milioni e 500 mila euro maturati dal 1 gennaio 2015. Di questi 45 milioni derivano da sentenze passate in giudicato. Sulla cultura credo che si sia fatta un po' di confusione, credo che i nuovi sistemi di contabilità e il nuovo piano dei conti ha imposto una risistemazione di alcune voci. Porto ad esempio lo Stato di San Paolo, per esempio, la Convenzione dello Stato di San Paolo e delle spese erano collocate nella cultura, che ha nulla a che vedere con la cultura. Quindi c'è stata una risistemazione. Quindi se andiamo a leggere i numeri probabilmente qualcuno avrà letto una movimentazione di numeri in uscita, ma non c'è assolutamente nessuna riduzione verso la cultura, anzi tutta l'imposta di soggiorno è stata tutta quanta destinata alla cultura. Ma noi vogliamo fare di più, perché è sempre insufficiente. Quello che c'è in questa città è talmente tanta le cose da presentare che bisogna investire sempre di più, quindi al di là dell'imposta di soggiorno, ma è proprio strutturalmente una politica dell'amministrazione prossima-futura dovrà indirizzarsi verso il rafforzamento di questo strategico settore. Grazie a tutti.